Non si finisce mai di imparare. Quante volte abbiamo sentito queste parole? E nell'aviazione, come nella vita, vale proprio questa cosa. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare da altri piloti, da video su YouTube magari di gente che vola, da libri, manuali, boche ne so. Però non solo non si finisce mai di imparare, ma in aviazione non si finisce mai neanche di ripassare e di avere l'obbligo di ripassare. E proprio di questo voglio parlarvi in questo video, delle currency. Cosa sono? Beh, andiamo con ordine, perché questo è un video di volo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che mi vede ritornare sull'Eco Bravo, qua all'aeroporto di Varese e decolliamo. Questo volo però non è un volo di piacere che ho pernotato per farmi un giro, ma è un volo necessario. Necessario perché, vista la pericolosità di persone che volano, la responsabilità, diciamo, che ha un pilota mentre si trova ai comandi di un velivolo, in aviazione non basta che tu abbia la licenza e le abilitazioni per pilotare quel determinato mezzo in quel determinato modo. Devi anche averlo pilotato di recente, ed è questo il concetto di currency. Possiamo tradurla in italiano con freschezza, cioè quanto sei fresco, quanto tempo fai volato. E questo è proprio un concetto normato sotto molti aspetti, cioè nel senso sono regole che vanno rispettate. E quindi ecco che io, non volando circa dal mio esame di agosto 2022, per riprendere adesso a gennaio 2023 a volare, ho dovuto fare, assieme a un istruttore, un volo per ripristinare la currency. Ecco come si chiama. Come funzionano? Come si suddividono? È molto interessante, perché ce ne sono di diversi tipi. E diciamo, variano abbastanza in base alla licenza che hai, in base alle abilitazioni che hai, ci sono diverse robe che vanno rinnovate, scadenze, scadenze, è sempre un casino tenere traccia di tutto quello che un pilota deve rinnovare o periodicamente fare. Poi funziona un po' che ognuno a casa sua fa le regole sue, purché siano più stringenti della normativa. E quindi anche se magari la normativa dà dei certi requisiti, poi magari il tuo aeroclub dove voli e che ti affitta gli aerei vuole che sei ancora più fresco o vuole delle garanzie in più, insomma. Allora, la prima, la più classica di queste currency è quella del passeggero. Per portare i passeggeri sull'aereo devi aver volato con quel determinato tipo di aereo, in quelle condizioni in cui stai volando, negli ultimi 90 giorni, che sembrano tanto, ma tre mesi non sono tantissimi. E questa a me era abbondantemente scaduta. Anzi, vi dirò di più, non solo devi aver volato, ma devi aver fatto tre decolli e tre atterraggi negli ultimi 90 giorni. Poi leggo che ci sono ulteriori complicazioni, non sapevo. In base al tipo di carrello, se hai un carrello triciclo, cioè di questa forma, i decolli e gli atterraggi puoi farli come touch and go, se hai un carrello biciclo, cioè di questa forma, devi per forza atterrare, fermarti e poi ripartire. E tutta questa roba, questa freschezza dei 90 giorni, è specifica per la classe, per il type e per la categoria di aereo su cui voli. E quindi a me serviva ripristinare la currency nel Cesen a 172, ma tecnicamente non è che adesso posso portare passeggeri su un Cirrus, per dire, non lo so, non è a caso, a parte che non sono neanche abilitato. Non so se servono abilitazioni particolari, è tutto molto un casino. Tornando ai nostri criteri di freschezza, c'è quella della notte. In Italia non si vola, vuoi fare notturno perché gli aeroporti non ti accettano, però in America, dove è molto più normale, devono fare per portare un passeggero di notte, tra le colli e teatro e raggi, negli ultimi 90 giorni, di notte. E se li hai fatti di giorno, non conta per portare passeggeri di notte. Poi ci sono currency ancora più complicate, tipo quella per lo strumentale. Metto le mani avanti, la sto leggendo da un sito americano, non ho idea se in Europa sia la stessa cosa, perché queste cose variano un po', magari. Quindi non perdete questo mio video come legge, ma giusto per farvi capire, almeno in America, per pilotare seguendo le regole del volo strumentale, sono tutta una serie di regole e procedure che, semplificando molto, ti permettono di pilotare anche senza vederci fuori. Comunque per volare strumentale, negli ultimi sei mesi, devi aver fatto sei approach strumentali, almeno un holding, e intercettare rotte usando i sistemi di navigazione, negli ultimi sei mesi. E quindi se hai fatto più di sei mesi fa, non vale più perché potrebbe essere che non ti ricordi. Ecco, questo è il concetto che vorrei far passare da questo video. Il concetto di freschezza. Come si tiene traccia? È un casino. Alcuni logbook digitali, come quello che uso io, ti permettono di tenere traccia delle tue currency. Mi dà proprio una sezione dedicata a questa sezione plan. L'ho popolata io con le currency che mi servono a me. E però anche se io posso pilotare ad oggi un tipo di aereo, il Cesenna 172, ne ho detto un sacco di roba qua. Perché? Perché oltre alle currency ci sono le altre robe che devi rinnovare, di solito attestati, endorsement, cose varie, che sono banalmente la visita medica, che dura cinque anni, se come mai hai la visita di seconda classe, ma se fai quella di prima classe per pilota di linea, devi rinnovarla ogni anno. L'afonia inglese, o l'afonia nelle varie lingue di cui hai l'afonia, e il single engine piston, multi engine piston, quelle cose lì. Immagino lo strumentale, mi sembrava da rinnovato ogni singolo anno, quindi ci sono un botto di scadenze, oltre che ci sono dei limiti, delle ore di volo che puoi fare, ma quelli a me che sono un pilota privato, non mi interessano, interessano più i piloti di linea. Però essenzialmente vedete che ho popolato questa sezione con la currency vera del 172, questa qua sarebbe quella del passeggero, quindi mi sono segnato che negli ultimi 90 giorni devo aver volato con un Cesna, O-M-O-N-O-S-P. Poi, vabbè, questo qua è il TEA e l'afonia inglese, la SEP è appunto il single engine piston, che devo rinnovare ogni due anni, questa è la visita medica, in più vedete che ho messo queste altre due currency, che ho chiamato Varese, perché il mio aeroclub vuole che hai volato negli ultimi 40 giorni, non mi ricordo se 40 o 50, qua mi sembra che li ho impostati a 40, poi dovrò chiedere. E per caritarsi, come la vera currency da normativa sarebbe 90 giorni, ed è una loro richiesta che fai il voletto con l'istruttore, se ne sono passati più di 40, ti fanno anche quel voletto di 20 minuti gratis, dicono, vabbè, te lo chiedo io, però almeno non te lo faccio pagare. Però c'è da tenere traccia, in più vanno anche a distinguere i vari tipi di Cesna, e quindi mi sono fatto 40 giorni per il 172M, e 40 giorni per il 172SP, per il quale farò passaggio macchina settimana prossima. È un casino, ma godiamoci il voletto che ho fatto l'altro giorno, per appunto tre circuiti, che in realtà ne ho fatti quattro. Uno con i flap, che sono diventati due, uno senza flap, e una simulata di piantata a motore, e quindi atterraggio di emergenza. Ok, quindi siamo nel Cesna 172M, il famoso India in DSR Eco Bravo che avete visto all'inizio del video. Qua sono al punto di attesa, sto aspettando che mi diano l'autorizzazione a entrare in pista. Ah no, ero ancora a parcheggio, si vede poco fuori da finestrini. Ok, quindi rullaggio, arriviamo al punto di attesa A, fa tutti i controlli pre-volo del motore, capire quanto i giri del motore scendono, se stacchi un circuito di magneti o l'altro, o metti l'aria calda dal carburatore, vedere che le superfici di controllo ci siano tutte e funzionino bene, portiere, finestrini, insomma tutte le checklist. Rulliamo, entriamo in pista, ve lo schippo molto velocemente, e hopla, si decolla, belli diritti. In realtà, sì, mi ricordavo perché io ho volato anche in America, di recente, cioè avevo volato tipo una settimana e mezza prima, sempre col Cesna 172, però la richiesta di Varese è che tu abbia volato da loro negli ultimi 40 giorni, e quindi mi sono sottoposto. Possiamo togliere i flap. Qua stiamo salendo, tra l'altro anche un bel pomeriggio, c'era giusto un po' di foschia, ma bel sole. Ho tolto i flap, guarda un attimo facciamo la prima virata, eccola qua, la prima virata. Ve l'ho già spiegato in video passati, mi sembra almeno un paio di video, come funziona un circuito di traffico, cioè per i nuovi, quel loop che ti permette di decollare dalla pista, fai un giro che di solito è verso sinistra, ma potrebbe essere anche verso destra, e a forza di fare curve di 90 gradi, fai una specie di rettangolo e torni ad atterrare sulla stessa pista. e tutte cose, perché questo qua, il primo circuito era con i flap. Eccoci qua, qui in base, viro in finale. Arriviamo ad atterrare, sono anche configurato piuttosto bene, qui ho fatto una flare però un po' balorda, cioè proprio quell'ultima alzata di muso che si fa. Io cerco sempre di spiegare le cose anche a chi non ne sa di avviazione. Ecco, vedete, sono bello dritto in pista, sono bello dritto, però faccio, vado su... Un pochino piombato giù, eh. Ho visto. È touch and go? Sì. Comunque facciamo touch and go, mi chiede di fare un altro circuito con i flap, quindi facciamo un altro giro. Tutta la check list del sottovento mettendo anche i flap alla riduzione al motore, cioè i primi 10 gradi di flap almeno. Viro in base e qui sto mettendo altri 10 gradi di flap con la mano destra. Viro in finale, via l'aria calda dal carburatore, giù tutti i flap, rifacciamo l'altro atterraggio con full flap. Qui tendevo un po' a destra, c'era parecchia componente laterale, parecchia, c'era un po' di componente laterale del vento che mi spingeva un po' verso destra, però comunque al momento del touchdown sulla pista anche questo un po' duretto ero piuttosto centrale. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un altro circuito senza flap, cambiano un po' le velocità, cambia un po' la pendenza dell'avvicinamento. Velocità buonissima, in finale tra l'altro per essere senza flap ero anche messo bene, vediamo come atterro. Lì è bello dritto, resto un po' in effetto suolo e... Opla! Tutti un po' duretti sti e a terraggie, tutti verso destra ma lì per il vento. E poi all'ultimo giro, dopo il decollo, mi vedete aprire a 45 gradi, tra un attimo, guarda, facciamo la virata, eccola qua, 45 gradi verso destra, continuando a salire perché mi sto portando in chiave alta, cioè sulla verticale della pista, 1500 piedi sopra la pista, circa 500 metri. Stiamo lasciando la verticale per una simulata finita. Siamo via. Eccoci qua, lui mi toglie tutto il throttle, cioè mette in idle il motore, lo mette a zero, che poi non sono veramente zero giri, però è al minimo dell'acceleratore, insomma, e quindi si sta simulando di aver perso il motore perché ha piantato per qualche ragione e bisogna tornare in pista. E quindi qua, dopo aver impostato la velocità di massima efficienza e cose varie, faccio la mia curvetta, bisogna fare un po' a occhio, qua non c'è una base finale. Se sei troppo alto, tendi ad allargare un po' la curva oppure a estrarre un po' prima i flap, in modo che cominci a fare resistenza e cominci a scendere. Se invece sei basso, tenti in tutte le maniere di arrivarci alla pista perché non hai neanche detto che ci arrivi. Cioè, il gioco è appunto ad arrivare alla pista sani e salvi col motore piantato e ci siamo arrivati. Belli sani, belli salvi, tra l'altro bello centrale anche qua e questo è stato il mio ultimo atterraggio. Faccio un piccolissimo contropista, cioè percorro la pista nella direzione opposta per andare a liberare, eccola qua, all'uscita Charlie e con questo, con questo voletto, adesso in teoria legalmente per i prossimi 90 giorni posso volare, cioè in realtà 90 giorni dal primo febbraio, ne sono già passati 11 e invece in realtà secondo Varese su quell'aereo, sul 162M posso volare per i prossimi 40 giorni. Casino, ma spero di avervi trasmesso qualcosa, insegnando qualcosa, non lo so, per questo video è tutto, pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi, continuate di essere iscritti, la prossima settimana escono un sacco di video, cioè tre, ma non penso di averne mai fatti, tre in una settimana su Marco Romboli, con qualche storia molto interessante del passato, dell'aviazione e non lo so, iscrivetevi al canale così non ve li perdete, pollice in su, ciao a tutti!